Signor Bell, quale generale ebbe l'appoggio dell'aristocrazia nella guerra civile dell'88 a.C.? Silla. Lucio Cornelio Silla. Esatto. È il mio figlio! Signore, credo che il signor Bell stia barando. Ma niente. Cosa? Lasci stare. Come? Lasci stare. Signor Meta, in quante province amministrative l'imperatore Augusto divise Roma? Quattordici. Mi scusi, quante? Quattordici. Esatto. Bravo, D-Bats! Signor Bell. Chi era Amilcare Barca? Chi era Amilcare Barca? Amilcare Barca. Non lo so. Signor Meta, chi era Amilcare Barca? Non lo so. Signor Meta, chi era Amilcare Barca? Il generale cartaginese che vinse la battaglia di Trapani nel 249. Un condottiero imbattuto che ebbe la sfortuna di trovarsi dalla parte sbagliata. è esatto. Viva! Grazie. Grazie. Complimenti, sei stato bravissimo. Grazie, signor Davide. Il signor Giulio Cesare. Grazie.